un altro anno di contratto per scrivere un'altra pagina anche personale della storia del Lecce per entrare nel cuore dei tifosi da allenatore dopo averlo fatto da calciatore la famiglia Tesoro ha scelto Francesco Moriero per la panchina del Lecce un leccese doc che conosce benissimo la piazza in presenza di Antonio Tesoro si sono discussi gli ultimi dettagli ad affiancare il nuovo tecnico del Lecce sarà Sandro Morello altro ex calciatore giallorosso prodotto del vivaio leccese il predatore dei portieri sarà di Fusco la presentazione è all'inizio della prossima settimana ma la macchina organizzativa non si fermerà c'è da scegliere la sede del ritiro precampionato e soprattutto una squadra da costruire ora potrebbe essere tutto meno difficile con l'innesto del nuovo allenatore che detterà quelle che sono le sue esigenze anche in base al modulo tattico che intenderà adottare innanzitutto ci sono delle operazioni in uscita da sbrigare quanto prima con l'arrivo del nuovo tecnico anche il mercato decollerà alcuni giocatori sono sul punto di partenza Benassi e Ferrario su tutti i due calciatori ancora vincolati a Lecce non hanno rescisso il contratto ma per loro c'è la possibilità di monetizzare le loro cessioni come per Falco e Chiricò ma per quest'ultimo si ragionerà sulle comproprietà Memushay riscattato da Lecce non dovrebbe muoversi dal Salento l'albanese diventerà una pedina inamovibile del centrocampo e nelle prime dichiarazioni a caldo del patron tesoro dopo la mancata promozione in B il nuovo Lecce dovrebbe nascere intorno a Giacomazzi e Shevanton nonché a Bogliacino ma molto dipenderà dalla volontà di Moriero l'unico dei tre che da lunedì si ritroverà con contratto scaduto è Shevanton a Moriero la scelta